Benvenuti in un nuovo video per la serie Affitti Brevi in 30 giorni, oggi parliamo dell'arredo all'interno dei nostri immobili posti su Airbnb e Booking. In questo video ti svelerò qual è il singolo pezzo che mi permette in ogni struttura in maniera sistematica di affittare a 30-40 euro in più a notte, quindi parliamo di comunque migliaia di euro a fine anno, rispetto ad un immobile che non ha questo pezzo e soprattutto rispetto ai miei competitor che non conoscono questa strategia, tanto semplice quanto geniale. E già lo so che alla fine mi direte tutti, ah Ludovì come una banalità è così scontato, beh a voi può sembrare così banale e così scontato perché adesso ve l'ho detto in un video, ma vi assicuro che se fate una ricerca su Airbnb il 90% degli annunci non possiede questo strumento. Ma prima di analizzare nel dettaglio di che cosa stiamo parlando, voglio fare una piccola parentesi sull'importanza dell'home staging e dell'interior design. Infatti quando valuti di acquisire un immobile ad investimento zero col property management o in subloccazione, devi valutare soprattutto come verrà in foto, come esternamente verrà percepito dagli altri. E non deve necessariamente piacere a te, ma deve essere funzionale, quindi deve avere un senso nei confronti di tante persone che vedranno questo annuncio e devono essere convinte nel prenotare il tuo immobile e non quello di un'altra persona. E non è solo deve essere bello quando io entro nell'immobile, ma deve essere bello anche e forse soprattutto quando io lo fotografo, perché le fotografie di un immobile sono come la copertina di un libro, se la copertina è brutta nessuno compra il libro, se le foto sono belle qualcuno prenoterà quell'annuncio. E attenzione, quando parlo di home staging o interior design, non dico che la casa deve essere arredata armani casa o che devi spendere decine di migliaia di euro. Anche una casa arredata con Ikea o mondo convenienza va benissimo e può rispettare tranquillamente i canoni dell'home staging e dell'interior design, che sono tematiche che all'interno di B&B Academy trattiamo tantissimo e in maniera gratuita. Ma prima di continuare ti chiedo di sostenere questo tipo di video iscrivendoti al canale e mettendo un bel mi piace. Ti dirò di più. Al contrario, spesso le proprietà con un arredo normale funzionano di più, perché ci sta che se io vengo con mia madre a soggiornare in quel B&B non mi interessa avere le pareti di velluto o le lenzuola ghepardate, o se vengo a dormire lì con mio padre di avere gli specchi sul soffitto non mi importa. Quindi per assurdo un arredo semplice e funzionale è molto più appetibile rispetto ad un arredo particolare e ricercato che magari a determinate culture può non piacere. Lo so che stai aspettando il momento in cui ti svelerò questo oggetto magico, ma abbi pazienza perché tutte le nozioni che ti sto dando sono comunque molto importanti e vanno a completare un po' il concetto di arredo funzionale e si attaccano molto bene a questo oggetto segreto che ti svelerò a brevissimo. Un'altra considerazione da fare è quella che dobbiamo evitare l'effetto casa della nonna con arredi misti, disordinati, uno stile non coerente, tovaglie, centrini, eccetera. E un altro errore gravissimo sono le persone che lasciano i crocifissi o simboli religiosi dentro casa. Affittando noi su piattaforme come Airbnb e Booking avremo ospiti letteralmente da qualsiasi parte del mondo e anche persone con religioni diverse dalla nostra o addirittura ate. E vi posso assicurare che nessuna persona magari di fede musulmana vuole dormire in un letto con sopra un crocifisso o anche semplicemente soggiornare in una casa con simboli religiosi. Quindi parte del buon gusto secondo me sta nel rendere i nostri mobili neutrali e senza riferimenti magari a idee politiche piuttosto che religiose. Quindi per fare un piccolo recap non servono i mobili con arredi pregiati o costosissimi anche perché spesso le cose costose sono anche poco funzionali. Al contrario l'arredo deve essere semplicemente pulito, semplice e appunto funzionale anche perché un mobile di che è facilmente rimpiazzabile si trova facilmente il pezzo di ricambio. Invece se utilizzate brand pregiati come ad esempio posso aver fatto io a casa mia come Lago Design o Living Divani beh lì se vi rovinano la fodera di un divano di Living Divani costa anche all'incirca 5000 euro quindi capite che non è per niente funzionale e non è la tipologia di arredo che vogliamo noi e anzi mi è capitato di acquisire in property management degli immobili con arredi di pregio io li ho tolti e ho chiesto al proprietario di mettere arredi Ikea proprio per evitare inconvenienti di questo genere perché ripeto pulire un divano Ikea, smacchiare un divano Ikea o cambiare la fodera ad un divano Ikea ti costa 40 euro ad un divano Living Divani ti può costare 5000 euro quindi less is more ovvero il meno è per assurdo di più e arredare in maniera semplice è la scelta migliore che tu possa fare dentro B&B Academy abbiamo interi capitoli sull'home staging dove ti spieghiamo tutto per filo e per segno poi vogliamo ovviamente dare uno stile personale all'immobile per farlo ovviamente possiamo utilizzare elementi come dei quadri delle piantine, delle luci colorate e se il proprietario è disposto a investire un po' di più ovviamente possiamo anche puntare ad una carta da parati o elementi più carini sempre spendendo poco ad esempio da Maison du Monde troviamo degli oggetti di qualità superiore magari rispetto ad Ikea in mondo convenienza ma sempre con dei prezzi abbordabili ricordatevi che basta veramente poco per arredare un immobile in maniera funzionale piacevole dare anche un tocco di lusso pur spendendo poco ripeto affidandosi per lo più a brand come Ikea Mondo Convenienza o Maison du Monde vi faccio vedere un immobile bellissimo che abbiamo ristrutturato assieme al proprietario a sue spese con pochissimo veramente poco 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 ma che visto in foto così può sembrare un immobile di lusso ma quindi qual è questo elemento incredibile che può svoltare completamente il tuo business di affitti brevi? il divano letto che ripeto può sembrare una banalità ma la maggior parte degli annunci su Airbnb non lo presenta più o meno tutte le case se andiamo a vedere hanno un divano un oggetto che permette alle persone di sedersi conversare chiacchierare e magari guardare la tv ma non ci permette di monetizzare di più perché le persone non possono dormire su quel divano dall'altra parte se quel divano fosse un divano letto a parità di spazio possiamo aprirlo e farci dormire due persone in più ciò significa che in un bilocale possiamo far dormire quattro persone in un trilocale possiamo far dormire sei persone e così via creiamo praticamente soldi dal nulla con un investimento di poche centinaia di euro perché alla fine un divano letto Ikea costa 300 euro 400 euro che spesso andrà a pagare il proprietario se si parla di property management ma al di là dei posti letto questo permette anche a dei nuclei familiari di prenotare a dei prezzi più convenienti se ad esempio una famiglia con due figli dovesse prenotare una vacanza a Milano in hotel dovrebbe prendere due camere d'hotel o una suite enorme per quattro persone mentre con gli affitti brevi gli basta prenotare un qualsiasi bilocale con il divano letto e questo rende il turismo più accessibile e soprattutto il tuo immobile il tuo business di affitti brevi più profittevole così facendo non solo andiamo ad ottenere più prenotazioni perché chiaramente maggiore il numero di persone che possiamo far soggiornare più probabilità abbiamo di essere prenotati ma possiamo anche chiedere un extra per questi posti in più ad esempio lo stesso bilocale a Milano io posso affitarlo a 150 euro a notte per due persone quindi anche se prenotano in due ma ho un divano letto io lo affitto a 150 euro se le stesse persone decidono di venire in quattro anche aggiungendolo in un secondo momento ad esempio io posso chiedere 20 euro in più a persona per dormire nel divano letto giustificando il tutto col fatto che comunque dovrò chiaramente metterci delle lenzuola magari consumeranno un po' più di acqua e di energia elettrica e quindi io vado a guadagnare di più ed ecco che la stessa casa può ad esempio fatturare 150 euro a notte con due persone o 190 euro a notte con quattro persone il tutto grazie ad un divano letto che compro una volta mi dura per tantissimi anni e mi svolta completamente il business però attenzione perché ci sono modelli e modelli di divano letto ci sono alcuni che sono più convenienti e funzionali altri che costano un sacco e funzionano male divani letto con dei meccanismi molto particolari che se sollecitati troppo potrebbero rompersi in breve tempo e noi di B&B Academy ovviamente ne abbiamo testati a decine regolarmente aggiorniamo il corso inserendo quelli che sono i migliori modelli ma soprattutto i più economici ed ecco perché se non l'hai già fatto ti consiglio di guardare i contenuti che abbiamo preparato gratuitamente qua per te in descrizione dove ti spieghiamo come poter accedere a B&B Academy e perché ha molto senso perché ovviamente qua ti stiamo condensando delle informazioni che all'interno dell'Accademia vengono descritte con ore e ore e ore di lezioni modelli specifici, offerte, sconti, dove trovarli e chi più ne ha più ne metta ma chi lo paga questo divano letto? beh se si è in property management lo paga il proprietario se si è in sublocazione lo paghi tu ma puoi anche chiedere uno sconto sul canone di fitto al proprietario perché ad esempio gli dici che quel divano letto al termine del contratto glielo lascerai e anche se alla fine lo devi pagare al 100% tu hai un rientro dell'investimento velocissimo nel senso che se guadagni 40 euro in più a notte e un divano l'hai pagato 400 euro ti bastano 10 notti prenotate per essere andato a pareggio tutto il resto del guadagno extra a fine anno sarà tutto profitto che ti metti direttamente in tasca spero che questa lezione ti abbia un po' aperto gli orizzonti o comunque sia stato un ottimo ripasso per te e ancora una volta se ti è piaciuto il video iscriviti al canale metti un bel mi piace e leggi ciò che abbiamo preparato per te qua in descrizione da Ludovico Cianchetta Vaskets BNB Academy è tutto ci vediamo nel prossimo video grazie a tutti grazie a tutti